Un nuovo patto associativo per innovare e costruire insieme l'agenda cooperativa del futuro. Con cooperatrici e cooperatori di tutta Italia e di ogni settore, un percorso lungo e coinvolgente. Nuove idee e nuovi progetti, nuove sfide e nuove risposte, più giuste, più sostenibili, più forti e competitive, nuove reti e relazioni in Italia e in Europa. Un punto di arrivo e un nuovo inizio. Immaginiamolo e costruiamolo ora, insieme.